Da lunedì le regioni italiane potranno aprire le vaccinazioni degli over 40. Il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint della campagna in vista dell'estate, confortato dal calo della curva epidemiologica, oggi ancora sotto i 10.000 nuovi casi per il quarto giorno consecutivo e dall'impennata delle somministrazioni, che oggi hanno superato quota 25 milioni. Per quanto riguarda i vaccini provenienti da nuove aziende, che potrebbero venire somministrate a partire da giugno, il Premier Mario Draghi, durante il question time alla Camera, ha invitato ad accelerare sullo sblocco dell'export prima di arrivare ad una liberalizzazione dei brevetti. Dal Senato, invece, è arrivata l'approvazione ad un emendamento del decreto legge Covid che prevede lo scudo penale per medici e infermieri durante il periodo di emergenza. Un segnale importante, il commento del Ministro della Salute Roberto Speranza, a chi ha lavorato in primissima linea in una fase così dura ed ha aiutato il Paese con il massimo dello sforzo e dell'impegno. Sulla questione del richiamo Pfizer, infine, l'EMA ha confermato ufficialmente l'efficacia della seconda dose a 42 giorni, come deciso da tempo dal Comitato Tecnico Scientifico e ribadito questa mattina dallo stesso coordinatore Franco Locatelli. L'EMA sottolinea che non è una deviazione rispetto alla raccomandazione. Informazioni, tra l'altro, presenti anche nel bugiardino del vaccino. Da lunedì, dunque, si aprirà ufficialmente una nuova fase della campagna vaccinale, alla quale potranno aderire anche i nati fino al 1981, vale a dire gli over 40. In una lettera inviata alle regioni, Figliuolo raccomanda comunque ai governatori l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbità, fino a garantirne la massima copertura. Per questo l'inizio delle somministrazioni per i più giovani non partiranno contemporaneamente in tutta Italia, ma solo nelle regioni che sono già pronte e che hanno già completato la vaccinazione di gran parte delle categorie citate dal commissario. Nel frattempo, con l'avvicinarsi delle vacanze, il governo sta pensando alla possibilità di consentire le vaccinazioni anche ai turisti in visita in regioni diverse da quella in residenza. Le regioni hanno utilizzato il 91% delle dosi a loro disposizione, con Puglia, Lombardia e Sardegna tra le più virtuose. E proprio oggi è cominciata la distribuzione di altre 2,1 milioni di dosi, alle quali entro il fine settimana si aggiungeranno le restanti dei previsti 3 milioni. Nel Lazio si punta ad arrivare all'immunità di Grece già ad agosto. In Campania, invece, con l'arrivo di altre 215 mila dosi, è ripartita la campania che aveva subito un piccolo rallentamento.